ciao 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 ragazzi ciao ragazzi benvenuti o bentornati in questo nuovo nuovissimo video allora ragazzi in questo video vi voglio mostrare diciamo dei nuovi prodotti i miei preferiti quelli diciamo di recente che mi piacciono di più so guys in this new video i'm going to be showing you my new favorite products 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 that i really like and i really suggest you guys because i think they are very like they have an honest price 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 they are not so expensive and they are very 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 useful very very good e niente ragazzi senza perdere diciamo ulteriore tempo tempo iniziamo il video allora ragazzi il primo prodotto che vi mostro questo scassatore qui che vi avevo detto nel video precedente ve l'avevo consigliato allora ragazzi questo è una novità perché funziona anche se lo mette lo cavolgete e spruzzate spruzza lo stesso infatti vedete cosa c'è scritto novità funziona sotto sopra ed è la shanteclair sgrassatore universale con bicarbonato super potente su ogni tipo di sporco fa brillare senza luni e niente ragazzi qua dice anche sgrassatore universale super potente sgrassa smacchia e pulisce a fondo ogni tipo di sporco anche il più ostinato da tutte le superfici ideale persino sui tessuti lo speciale spray che funziona anche sotto sopra ti permette di raggiungere i punti più nascosti e di usare fino all'ultima goccia di prodotto lo usi tutto funziona dappertutto qui dice spruzzare sulla superficie sciacquare con un panno spugna 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 in lavatrice diciamo se si vogliono lavare e niente ragazzi la profumazione è veramente top di questo qui a me piace tanto il ger bocci si Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Spero che vi piaccia questo video, questo format che porto ragazzi A me questa tipologia di video piacciono tanto perché comunque riesco ad ottenere anche dei suggerimenti d'altre persone sui prodotti Ah comunque ragazzi, così per dire, ho ordinato delle nuove unghie finte Perché so che comunque indosso sempre le stesse però ci metto un po' ad arrivare queste qua perché vengono dalla Cina E ho ordinato delle nuove unghie da demo Vediamo come sono perché queste sono di Aliexpress e ce le ho veramente da tanto tempo Queste mi piacciono tanto Vorrei prenderne di altri colori sempre così Ci sono tipo blu che sono bellissime So guys, I ordered some new fake nails for me and they are still coming from China I can't wait to get them E va bene, niente ragazzi, questo era un semplice sgrassatore Questo Straconsigliato Poi Il prossimo prodotto è un prodotto della lavatrice Questo ragazzi è felce azzurra Oggi ho tre prodotti della felce azzurra perché io penso sia buonissimo Allora, questo è nuovo Ed è felce azzurra, amorbidente e classico Formula più concentrata 40 lavaggi, più lavaggi e profumo Niente ragazzi, io penso che questo sia un prodotto molto valido È felce azzurra, quindi È famosa Qua dice C'è, diciamo la piramide Mamma mia quanto pesa ragazzi C'è la piramide, mi sembra organolettica Questa si chiama Testa, aranciapino, rosa, cuore Lavanta, pagiuli, petite grain Non so che roba sia Fondo, muschia e citronella Amorbidente, classico Lasciati avvolgere dalla morbidezza e delle note uniche ed inconfondibili dell'essenza classico Con la sua nuova formula più concentrata L'ammorbidente felce azzurra dona al tuo boccato Ancora più profumo e lavaggi E niente ragazzi, prodotto straconsigliato, buonissimo Come vi dicevo prima, oggi ho ben tre prodotti della felce azzurra A me piace un sacco anche il poro d'alco da mettere normalmente sulla pelle Allora poi ragazzi, il prossimo prodotto non è un prodotto per la casa Però ci tenevo a farvelo vedere Allora ragazzi, ora che fa freddo E tra l'altro stasera questa me la voglio fare Perché mi fa male la pancia Come avete ben capito ragazzi Questo video l'ho registrato insieme a quello precedente Quindi mi fa sempre male la pancia Solo rimasta così Allora ragazzi, questa è una tisana Ed è della Lord Nelson Questa qua ragazzi Ha un ottimo odore Veramente delicato E potete trovarla la Lidl Questo è un prodotto della Lidl Che io amo la Lidl Questa è una tisana a base di camomilla La ortica e melissa Contribuisce al benessere mentale Di naso e gola Poi ho anche quando ho un po' di mal di pancia Me la faccio Allora le trovo dietro La camomilla, la melissa e la verbena Contribuiscono al rilassamento e al benessere mentale L'ortica contribuisce al benessere di unghie e capelli La liquirezza e la salvia Favorescono il benessere di naso e gola Ragazzi, questa costa veramente poco Ed è veramente buona Io ci metto sempre un po' di miele dentro Invece che lo zucchero Che fa molto bene alla gola E per prepararla Normalmente come si preparerebbe un tag Queste sono postine a mano uso L'odore è molto delicato Molto buono Molto buono Anche questo straconsigliato come prodotto Infatti stasera io Questa me la faccio Perché Ripeto Ho questo mal di stomaco Che mi va avanti ormai da circa tre giorni Ho preso l'entero germina Ma Un po' non mi fa niente Io ti ho preso l'entero germina Ho preso l'entero germina Come Sì. a voi ragazzi piace la Lidl? mi piace moltissimo diciamo che è il mio supermercato preferito insieme all'Aurospin però la Lidl mi piace molto di più e poi ce l'ho praticamente davanti a casa quindi è comoda e niente ragazzi questa è un'ottima tisana se volete provarla se capitate alla Lidl prendetela poi ragazzi sempre diciamo gli alimenti quindi alimentazione queste caramelline questi sono Ambrofoli dell'Ambrofoli che sono caramelle balsamiche al miele e allora ma dietro in realtà non dice nulla di che queste sono senza senza prudine cento anni di storia sono così e niente ragazzi qui abbasserò un po' l'audio perché secondo me questa bustina fa un casino e niente ragazzi queste se avete del mal di gula o comunque il fastidio qui io vi consiglio queste qua se riuscite a trovarle e diciamo che utilizzo molto il miele io quando sempre l'inverno io queste le mangio spesso sono balsamiche ragazzi tipo l'ammorbidente ha lasciato un odore nell'aria pazzesco ora c'è tutta la mia stanza che sa di di felce azzurra a me ragazzi ci piacciono un sacco anche i deodoranti quelli per ambienti della felce azzurra che ci sono un sacco di profumazioni infatti dell'ammorbidente questo qui c'erano varie profumazioni ma non mi piacevano a me piace il classico felce azzurra e niente ragazzi queste erano le caramelle ambrofogli poi ragazzi spostiamo queste caramelle ragazzi dopodiché ho un altro prodotto sempre della felce azzurra questo è nuovo e l'ho comprato alla Lidl e ha la stessa piramide olfattiva dell'ammorbidente spero che si veda si si vede e niente ragazzi questo buonissimo anche questo è una diciamo è un gel doccia doccia gel vabbè l'ho detto al contrario grazie alla sua formula il doccia gel felce azzurra classico deterge la pelle lasciandola piacevolmente morbida e profumata so guys this is a gel shower oh and this product here was for the laundry and this is very very good from felce azzurra this is an italian brand and I really suggest you guys the products by felce azzurra because they are so extremely good for you for you and home the home fatemi sapere ragazzi se anche voi utilizzate i prodotti della felce azzurra e che cosa ne pensate come li trovate o anche se avete degli altri prodotti da consigliare a me a 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 bene, dopo di questo prodotto qui ragazzi, sempre felce azzurra nuovo prodotto della Lidl, questa ragazzi è una crema per il corpo, classica, body cream original from felce azzurra, crema corpo idratante per una pelle morbida e profumata, si assorbe rapidamente, dermatologicamente testata, ecco vedete, ragazzi questa buonissima, ve la vostra consiglio vivamente, sa del classico profumo appunto di felce azzurra come l'ammorbidente, azzurra attenzio Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il penultimo prodotto è una crema mani Buonissima questa qua Questa qua ragazzi è una crema mani della Stenum Vabbè ragazzi spettacolare Io ho vari prodotti della Stenum appunto E questa idra and ne ho vari Allora qui dice Linisco, proteggo, garantisco una finitura non grassa Grazie alla mia glicerina e alla mia aloe vera Dite addio alle mani secche e date il benvenuto alle mani morbide Ed è stato sotto controllo dermatologicamente su un campione 100% pelle sensibile Formula senza ingredienti o derivati di origine animale Oltre il 98% di ingredienti di origine naturale Adatta ai bambini di età superiore ai 3 anni Eccola qui Allora ragazzi questa d'inverno è la migliore Cioè non prendete altre marche Questa qua se riuscite a trovare chi vede la Stenum Questa è veramente top in assoluto Io mi ci trovo davvero bene E già come potete vedere è nuova L'ho utilizzata pochissimo però Ve la volevo straconsigliare So guys this is Anand Cream by Stenum And this is a very good product I really love this prep here I got this phone from my grandmother Because she sells these products Products by Stenum Oddio mi cade tutto Infatti questa è per tutta la famiglia Vedete c'è il zibulletto qua sotto Questa per me d'inverno è obbligatoria Ragazzi insieme al Al balsamo labbra Che vi avevo fatto vedere nello scorso video Che l'avevo finito Perché ne ho ovviamente un altro Bene ragazzi dopo questo Vi faccio vedere l'ultimo prodotto So guys this is the last product I'm gonna show you today So this is for when For the shower time Allora ragazzi Questo è un bagno doccia nutriente Latte di cocco Nutriente con palto estratto di cocco Zero coloranti Zero paraffina Zero parafini Zero siliconi Della marca L'Angelica Istituto Erboristico Buonissima questa marca ragazzi Tra l'altro Questa ve l'avevo già mostrata Scusate ragazzi Se mi vedete un po' spetta Ma io ho questo mal di pancia Che mi da davvero fastidio E non so neanche come farlo passare In realtà Allora qui dice L'Istituto Erboristico L'Angelica Ha creato per te La nuova linea Di bagno doccia Paito Latte Una gamma Di prodotti ricca Di estratti vegetali Ottenuti Mediante estrazione Di piante Ufficianali Provenente Di materie prime Rinomabili OGM Per garantire tutto Il buono Dei strati naturali Per la cura Della tua pelle So guys This is The translation And it says Let yourself be pampered By the delicacy Of l'Angelica Paitolatte Coconut Milk Pat and shower gel The precious Coconut Paito Extract Is formulated To ensure you All The efficacy Of the nourishing Properties Of coconut For a For a Smooth and bright Skin Every day In bagno Docile angelica Paitolatte Rispettano La pelle E l'ambiente Quindi top Veramente buono Allora ragazzi Questo video Si conclude qui Io spero che Questi prodotti Vi siano stati Utili Comunque Come consiglio Poi Se volete acquistarli Quello sta a voi Però io Mi sentivo Di goziarveli E Niente ragazzi Io spero Davvero che Questo video Vi sia piaciuto Vi sia stato Anche utile E Noi ci vediamo Nel prossimo video Mi raccomando Ragazzi Supportatemi Fatemi sapere Se vi piacciono Questi contenuti Così almeno so Se continuare a portarli O se cambiare genere Però a me piacciono molto So Guys This video Is over And let me know Down below In the comments If you like This kind of content If you enjoyed It Support me Because it's Very important For let My channel Growing Faster So Good night Guys Good night Good night Good night Good night Sweet 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 Dreams 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 Bye guys Ciao ragazzi Grazie per aver guardato Ficqui Supportatemi Lasciate like Iscrivetevi Lasciate un commento Se vi va Solo se vi va E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ragazzi Bye Buonanotte A te A te A te Buonanotte Bye Bye Ok.